Genitori divisi sul vaccino al proprio figlio minore ed intervenire al Tribunale di Brindisi che ha emesso una sentenza che potrebbe fare scuola nella giurisprudenza italiana. Si tratta di una famiglia in via di separazione che ha visto i due genitori trovarsi in una posizione di divergenza sulla scelta di vaccinare il proprio figlio. Il primo genitore infatti aveva informato l'altro genitore del minore in questione sull'avvenuta prenotazione per la vaccinazione del proprio figlio, affetto da patologie, trovando però il disaccordo del coniuge che non aveva dato il proprio consenso e che aveva intimato all'assenzione dall'intraprendere qualsiasi iniziativa in merito. Da qui la richiesta di intervento al Tribunale di Brindisi, con il ricorso all'ex articolo 709 del codice di procedura civile del genitore favorevole alla vaccinazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Romartire. Una sentenza di non facile soluzione per il Tribunale di Brindisi, preseduto dal magistrato Alfonso Pappalardo e dal giudice relatore Luca Scuzzarella, che hanno chiesto il parere del CTU medico e dopo mesi di accurate perizie, è giunta la sentenza, che certifica nel caso specifico una bilancia a favore dei benefici rispetto ai rischi della vaccinazione, autorizzando il genitore favorevole alla vaccinazione del figlio minore alla somministrazione, anche in assenza del consenso dell'altro genitore.